Salve a tutti ragazzi sono Cor96 e benvenuti in un nuovo video. Quello di oggi è un video un po' particolare perché vedremo l'unboxing di questo prodotto ovvero la Start Collecting Skeleton Nord prodotto dalla Games Workshop. La confezione contiene un buon numero di miniature per Warhammer e Age of Sigmar adatto a chi vuole iniziare o per aggiungere determinati modelli al proprio esercito. Le miniature in questione sono un Deathlord di cui parleremo più avanti, un'unità composta da 10 Skeleton Warriors e un'altra composta da 5 Black Knights, ma vediamo come si presenta all'interno. Subito abbiamo gli sprue con le parti da montare. Notiamo anche la qualità dei modelli e la definizione nelle varie parti. Sotto gli sprue troviamo le basette e sotto le basette le varie regole per montare i modelli con le relative Wallscroll. La scatola offre circa un 600 punti per poter iniziare a fare qualche partita, ma il pezzo forte, come ho detto, è il Deathlord. Questo kit permette infatti di montare l'eroe scegliendo una fra tre varianti, che sono Arkhan il Nero, Neferata o Manfred. La scelta dell'eroe spetta a voi a seconda delle abilità particolari di ognuno di essi o comunque di chi vogliate inserire nel vostro esercito. Personalmente ho preso questo kit per poterlo unire al mio esercito di Nighthound, specialmente per quanto riguarda Arkhan. La cosa divertente è che sul sito stesso della Games Workshop la scatola contenente soltanto il Deathlord costa 62 euro, mentre quella che stiamo vedendo qua, compresa anche degli scheletri, ne costa 70. Unica pecca è che gli scheletri in genere hanno il loro punto forte sul numero di modelli, quindi potrebbero essere un po' pochini quelli presenti in questa scatola. Perciò possiamo dire che questo è un kit niente male se siete le prime armi e siete inclini quindi alla fazione della morte e volete iniziare così la vostra avventura, oppure se avete in mente di puntare solo sull'eroe e volete anche qualche unità evocabile in più. Il video finisce qui, ma se ti è piaciuto il contenuto e vuoi supportare il canale, allora ti invito a iscriverti, lasciare un mi piace e condividere con i tuoi amici. Tutte le info su Metterali le trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ma se non volete aspettare seguitemi sui social. Noi ci vediamo al prossimo video.